Nel 1998, mentre per la seconda volta sono in corso trattative ufficiali per arrivare a una tregua, il giudice istruttore Baltasar Garzon chiude un quotidiano, Egin, e una radio, Egin in Radia. È la prima volta che accade in Europa dal dopoguerra. Egin non è un giornale qualunque. Per la Casa Bianca è il miglior foglio rivoluzionario del mondo, per Madrid il mirino di ETA. Per mezzo milione di baschi, un importante punto di riferimento. Il fiore all'occhiello della redazione è la squadra di inchieste di Pepe Rei, che negli anni 90 scrive pagine memorabili indagando sul narcotraffico, sulla corruzione e sul terrorismo di Stato dei Galli, gruppi armati di liberazione, che nel 1989 avevano ucciso il caporedattore Yosu Muguruza. Egin era un buon giornale. Oggi, a otto anni dalla sua chiusura, reggerebbe il confronto con qualsiasi giornale spagnolo. Egin era soprattutto un progetto popolare molto serio, divertente, rigoroso, documentato, che cercava di raccontare dal suo punto di vista cosa succedeva nei paesi baschi. E questo sembra disturbasse molte persone. I lettori chiamavano per segnalarti notizie o farti critiche. Raramente chiamavano per dirti che avevi fatto un buon lavoro. Egin non ha mai preso querele, dava solo notizie certe. Cercavamo di raccontare le cose come le vedevamo, ma il modo in cui vedevamo la realtà non coincideva con la realtà che alcuni volevano imporre. Una buona sezione sportiva, una sezione di esteri che non si accontentava di rielaborare le notizie di agenzia. E i primi supplementi speciali, i quadernillos. Il primo supplemento sull'ambiente, pubblicato nei paesi baschi, era di Egin. Egin ha rappresentato qualcosa di abbastanza impensabile per il 1977. Nel 77, dopo la morte di Franco, nei paesi baschi c'erano solamente giornali di lingua spagnola e molti di questi erano vecchi giornali del regime franchista. Egin è stato chiuso perché era un giornale nostro, perché era un giornale basco, nato nel mondo popolare con sottoscrizioni popolari, perché era un giornale che difendeva l'identità di questo popolo. E perché Egin è ETA? Secondo Garzon, perché difende le stesse cose di ETA. L'indipendenza, il socialismo, la tradizione basca, i diritti dei prigionieri politici, perché denuncia la tortura, la violenza di Stato. Quando hanno chiuso Egin è stata un'autentica barbarie. Questo dall'idea di come funziona il processo 1898 o più. Secondo la legge, in Spagna si può chiudere un giornale soltanto in base alla sentenza di un giudice, dopo aver stabilito che è stato commesso un crimine. oppure se c'è il pericolo di una guerra o di un'invasione. Ma in questo caso non c'è stata alcuna sentenza del giudice, né alcuna dichiarazione di guerra o invasione. In via cautelare, nel 1998 si è chiuso un giornale che nel 2006 continua ad essere chiuso senza che ci sia stato un giudizio. Questo in una società democratica è un'autentica follia. E ora che è venuto il momento di affrontare il caso, all'interno del processo 1898 o più, si scopre che le prove presentate per chiudere il giornale non esistono. Stavamo festeggiando un'amica che si sposava. Alle tre di notte una telefonata ci ha avvisato che avevano arrestato parte del consiglio di amministrazione. Garzon era davanti alla rotativa. I tipografi erano sconcertati di fronte a un'invasione di polizia di quel tipo. Abbiamo visto i poliziotti tagliare l'antenna di Egini in Rattia, mettere i sigilli alla rotativa. Così ci siamo riuniti e abbiamo deciso di uscire comunque con un giornale. Ci siamo detti siamo giornalisti, facciamo un giornale. La gente ci ha prestato le rotative e i computer. Volevamo dimostrare che anche se ci avevano chiuso non ci avrebbero fatto tacere tanto facilmente. Il giorno dopo siamo usciti con la testata Euskadi Informazion. È stata una sorpresa scoprire che la società basca aveva moltiplicato quelle 4.000 copie per cento. Il giorno dopo in tutte le spiagge, nelle edicole, nelle piazze, c'erano persone con quelle otto pagine fotocopiate e graffettate. Per noi è stato un momento davvero emozionante, ma soprattutto abbiamo capito che eravamo in grado di farlo.